fratelli e sorelle non abbiate paura di accogliere cristo e di accettare la sua potestà aiutate il papa e tutti quanti vogliono servire cristo e con la potestà di cristo servire l'uomo e l'umanità intera non abbiate paura aprite anzi spalancate le porte a cristo alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati i sistemi economici come quelli politici i vasti campi di cultura di civiltà di sviluppo non abbiate paura cristo sa cosa è dentro l'uomo solo lui lo sa a